Musica Buonasera e ben trovati. A due settimane dalla Pasqua facciamo oggi il punto sulla situazione a Livigno. Ne parliamo con il presidente di ATC, l'Associazione Turismo e Commercio Marco Cola. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie per l'invito. E con il presidente dell'Associazione Schipas Livigno, Giorgio Alzini. Buonasera. Benvenuto. Grazie. A che punto siamo? Mancano due settimane alle festività pasquali. Sì, nonostante le scarse precipitazioni, insomma ci avviamo verso la fine della stagione. Siamo a buon punto. Direi che il grosso della stagione è passato, adesso manca il colpo finale. Diciamo che la poca neve che è arrivata, speriamo ne arrivi ancora un pochino, ci sta aiutando a vendere il fine stagione. In effetti le prenotazioni sull'ultima fase della stagione sono un po' indietro rispetto al passato, proprio perché la carenza di neve non spinge i nostri ospiti a prenotare. Però dobbiamo dire che fino ad oggi abbiamo avuto un'ottima stagione. Siamo sicuramente soddisfatti per le presenze registrate fino ai primi giorni di marzo. Che cosa vi dicono i vostri clienti? Sono soddisfatti della schiaria? Diciamo che i nostri clienti sono consapevoli della situazione neve su tutto l'arco alpino e quindi Livigno tutto sommato è riuscita a dare un servizio decente e il parco piste bene o male è stato aperto a tutto. Vero è che le piste sono sicuramente più strette rispetto agli anni scorsi e se ci fosse stata un po' di neve in più sicuramente l'avrebbero apprezzata. Però devo anche dire che i nostri ospiti hanno visto lo sforzo che è stato fatto per cercare di offrire un servizio il più completo possibile. Zini, è vero che lei è di parte ma cerchi di essere equo. In quali condizioni sono oggi le piste di Livigno? No, con l'ultima nevicata di sicuro sono a livello di piste e di qualità della neve sono eccezionali. Devo dire che sulle piste non abbiamo avuto la mentele grazie anche sia all'innevamento ma anche alla preparazione costante che gli impiantisti fanno tutti i giorni. Quindi molto buone. Dunque si può ancora raggiungere il paese praticamente da ogni pista? Sì, sì, oggi la schiarea è aperta a tutti gli impianti, tutte le piste quindi siamo molto contenti perché appunto i problemi di nevamento, di caldo anche che c'è stato nelle settimane passate un po' ci ha fatto preoccupare. Adesso speriamo di chiudere la stagione in bellezza con la poca neve ma con la costante manutenzione che ha consentito almeno di prospettare una stagione molto buona. Si conserva molto bene la neve a Livigno. Praticamente abbiamo avuto due nevicate e oggi la schiarea è ancora bianca. Anche questo incide probabilmente nella scelta di una stazione piuttosto che un'altra. Vi è stata una predilizione per Livigno rispetto ad altre stazioni? Vi è capitato di parlare con turisti che normalmente frequentavano altre località ma che sono venute qui proprio per la neve? Sicuramente sì. Livigno da sempre è ritenuta una località dove quando c'è poca neve si va a Livigno perché bene o male si ha la certezza di trovare un comprensorio scistico attrezzato e normalmente abbiamo anche un paesaggio che è abbastanza invernale quindi con i prati imbiancati. In effetti quest'anno è stato un po' così. Se avete visto anche le varie gare di Coppa del Mondo che hanno fatto negli altri comprensori si vedevano le immagini dove c'era solo la pista innevata e al di fuori era tutto verde e noi invece anche con la Coppa del Mondo di fondo siamo riusciti a trasmettere un'immagine di un paese invernale. Poi è vero che noi siamo abituati bene a Livigno e normalmente abbiamo molta più neve rispetto a quest'anno però comunque per il nostro turista è stato piacevole trovare un paese innevato quindi sì sicuramente i nostri ospiti quando c'è poca carenza di neve ci scelgono maggiormente questo sono abbastanza tranquillo di poterlo dire. Bene, Zini quali sono i dati più significativi che voi avete ad oggi? Come sta proseguendo questa stagione? Sicuramente il fatto che a gennaio abbiamo avuto una costante presenza tutte le settimane di gennaio in crescita rispetto alla stagione precedente ha consentito oggi di avere un risultato molto buono perché poi febbraio comunemente è un mese che lavoriamo da sempre a pieno regime quindi non fa grossa differenza come mese mentre gennaio ha contribuito molto a portare la schiare ad avere a oggi il numero più alto di primi ingressi da sempre anzi addirittura da metà di marzo in avanti abbiamo anche rispetto alla stagione record quella che poi è stata interrotta dal covid siccome è stata interrotta ai primi di marzo a oggi il dato ufficiale che abbiamo è il più alto registrato da sempre quindi possiamo solo che essere... E qual è questo dato? Al 13 di marzo 885 mila primi ingressi e siamo avanti del 8,7% rispetto allo scorso anno e poco più dell'1% rispetto alla stagione record che era quella poi interrotta dal covid quindi diciamo siamo soddisfatti e lavoriamo proprio per migliorare sempre di più anche gratificati dall'utenza, dagli sciatori che comunque vengono a sciare Dunque supererete ampiamente il milione di sciatori? Sì, la proiezione sarà quella che a fine marzo dovremmo raggiungere questo milionesimo primo ingresso quindi poi avremo tutto il mese di aprile per arrivare si spera a un milione e due di primi ingressi Quindi è di un nuovo record? Sì, beh dopo il dato lo vedremo a fine stagione però le proiezioni almeno ci portano a questo tipo di risultato Un dato interessante è sicuramente quello elaborato dalla piattaforma H-Benchmark che ci dice che dal 3 dicembre al 17 marzo è stata una crescita dell'occupazione pari al 9% più o meno con un tasso di occupazione di posti letto pari al 91,8% l'anno precedente era l'82% parliamo di 40 strutture, 1.122 camere, 3.000 posti letto è un dato importante? È un dato molto importante perché avere degli incrementi così significativi sul ricettivo non è sicuramente da tutti i giorni direi che l'incremento maggiore l'abbiamo avuto proprio sul mese di gennaio dove normalmente si ha una flessione sulle presenze che quest'anno di fatto è stata molto più contenuta rispetto agli altri anni quindi si è lavorato con costanza anche dopo le feste di Natale Vi è stato un calo degli arrivi tra gli italiani ma un aumento esponenziale tra gli stranieri dovuto a che cosa secondo lei? Probabilmente il fatto della carenza di neve ha aiutato perché comunque come si diceva prima Livigno dà una garanzia in più diciamo normalmente quindi credo che sia dovuto da quel fattore lì quelli sono dati di 40 strutture alberghiere quindi sarebbe bello allargare il database includendo anche i tanti affitto appartamenti che abbiamo a Livigno perché effettivamente lì abbiamo dei dati delle strutture soprattutto quelle magari più organizzate che effettivamente registrano dei tassi di occupazione e anche un incremento della tarifa media perché avendo avuto più richiesta si è riusciti anche ad aumentare il prezzo medio soprattutto per le strutture a 4 stelle quindi questo è un altro dato molto molto importante da tenere in considerazione Sono dati comunque campioni molto utili perché alla fine permettono di avere un quadro in tempo reale molto importante e interessante Sì, sono dati che ormai sono fondamentali per la località innanzitutto quelli sono dati sul consolidato ma in H-Benchmark riusciamo già a vedere anche l'andamento delle prenotazioni per i prossimi mesi e già addirittura per l'estate compararli con non solo la stagione scorsa ma anche quella di due anni fa e quindi ci riusciamo ad avere veramente il polso della situazione Ecco, anche APT ha elaborato i dati appunto del mese di gennaio i dati competitivi sono sempre molto interessanti anche se sarebbe bello avere già quelli di febbraio siamo oltre la metà di marzo dunque che cosa ha letto tra questi di interessante? I dati sulle presenze l'APT adesso ha i dati di gennaio non abbiamo ancora il dato elaborato di febbraio c'è da dire che a differenza di H-Benchmark che è un sistema che lavora in automatico cioè i nostri software gestionali degli alberghi ogni giorno mandano automaticamente l'aggiornamento al sistema quindi riescono a essere i dati dell'APT devono essere mandati manualmente sempre in via digitale però ci vuole proprio qualcuno che elabora il dato e lo invia diciamo che il dato dell'APT è elaborato con le schede di notifica mentre il dato di H-Benchmark è un dato che emerge dal gestionale al di là della schedina di notifica e quindi adesso non voglio tediare comunque è un sistema un po' più semplice, più immediato e soprattutto è automatizzato quindi l'APT ogni tanto si trova a dover sollecitare gli albergatori perché questi invino i dati e gli permettono di fare le analisi del caso detto questo anche sul dato di gennaio emerge un forte incremento delle presenze sia degli italiani che degli stranieri per l'APT così come abbiamo riscontrato anche noi e anche l'associazione Schipas in termini di primi ingressi Ma Zini, a febbraio la stagione dell'USCIC come è andata? No, no, è andata molto bene chiaramente stiamo parlando delle settimane dove c'è anche il carnevale quindi abbiamo raggiunto anche il l'ho detto forse l'altra volta il picco di oltre 14.000 primi ingressi in una giornata nella settimana di carnevale quindi molto bene molto bene febbraio direi che l'abbiamo ampiamente però è una conferma perché comunque febbraio è il mese in cui si lavora da sempre in maniera ottimale E le prime due settimane di marzo? Vabbè, rispetto a febbraio sono leggermente inferiori però stiamo sempre parlando di 10.000 oltre 10.000 primi ingressi e 9.500 primi ingressi nelle settimane successive quindi comunque dei dati considerando che stiamo parlando di alta stagione buoni migliorabili però buoni considerato tutte le condizioni sia ambientali e di generale la montagna secondo me è stata una una buona risposta da parte di tutti sia dei tour operator che del mercato privato Anche lei è soddisfatto? Lei è un albergatore quindi ha il polso? Sì, io sono finora siamo sicuramente soddisfatti come dicevo prima siamo non dico preoccupati però vediamo l'andamento delle vendite su fine marzo e poi anche le le settimane di aprile indietro cioè anche lo stesso periodo di Schipass Free che notorialmente soprattutto la prima settimana si vendeva in anticipo quest'anno non è ancora così ben venduta però mi auguro che si riesca a recuperare sicuramente le condizioni della schiaria incideranno chiaramente i nostri clienti vogliono avere la certezza di trovare poi le condizioni per poter sciare la seconda parte della stagione è normale che venga e poi si spezzetta anche molto di più perché se ci sono le condizioni poi si comincia a vendere anche i weekend l'infrasettimanale diventa un mercato un po' diverso rispetto a quello che siamo abituati di fare a gennaio e febbraio dove ci si imposta la vendita sulle settimane bianche e si vende con larghissimo anticipo normalmente ci mancano ad oggi sulla parte di aprile un 20 punti percentuali di occupazione che però non è detto che non si riescano a ricolmare anzi che rispetto all'anno scorso a pari data certo invece le due settimane finali di marzo no le due settimane di marzo siamo leggermente sopra più o meno in linea siamo aggiornati siamo più o meno in linea con l'anno scorso quindi no non vi sono particolari preoccupazioni insomma come già qualcuno aveva anticipato anche gli impiantisti la stagione sta proseguendo molto bene e vi è fiducia anche per la coda finale ma vi sono novità importanti anche già per la prossima stagione invernale non non dimentichiamo che l'associazione Schipas ogni anno elabora le nuove stagionalità vengono presentate per il vero un pochino prima ma finalmente ci sono sì hai detto bene noi questo questo lavoro per definire sia le tariffe che le stagionalità è partito già a fine dicembre abbiamo fatto la prima analisi abbiamo innanzitutto preso in considerazione quanto rispetto alle norme di capitolato era possibile aumentare in base all'indice ISTAT relativo al costo della vita ed era risultato che per effetto di questo indice il potenziale aumento poteva arrivare fino al 15 5% e quindi ci siamo un attimino fermati perché effettivamente era un aumento importante a seguito di quello che già era stato fatto l'anno precedente e quindi abbiamo diciamo raccolto un po' di informazioni anche guardandoci e confrontandoci con altre destinazioni proprio per cercare di capire quale potesse essere la direzione di Livigno della schiera di Livigno questo lavoro di osservazione anche dei nostri competitor ci ha consentito di fare un'analisi un po' più qualitativa non solo di pur aumento ma ci ha consentito appunto di fare un lavoro di confronto con delle destinazioni abbastanza rappresentative nel mercato europeo e quindi abbiamo preso in considerazione Courmayeur Donomite Superski la Via Lattea Ischgl Port du Soleil che è un comprensorio Italia-Svizzera Francia-Svizzera molto importante Chizbue il Ponte di Legno e Serfhaus questo è stato un po' il nostro campione sul quale abbiamo fatto tutta una serie di confronti sia a livello di tariffe che anche di tipologie di testere che queste località proponevano e sono usciti degli elementi molto interessanti per cui siamo arrivati a febbraio a portare dei risultati di questa analisi comparativa cosa è uscito da questa analisi che c'erano alcune contraddizioni tra le nostre tessere e le nostre tipologie di tessere rispetto a questi competitor in particolare analizzando innanzitutto la progressività delle tariffe cioè passare dall'uno al sei giorni e poi da sei giorni al quattordici giorni c'erano degli incrementi tra un giorno e l'altro che Livigno in qualche modo non era così allineata quanto facevano gli altri competitor per cui il primo lavoro che è stato fatto è stato quello di cercare di riproporzionare e ricalibrare le nostre tariffe su una linea ideale che è quella che mediamente le località di sci hanno fanno il motivo è probabilmente che con gli arrotondamenti ogni anno in avanti e indietro probabilmente si sono disallineate alcune tariffe e quindi questo lavoro di io chiamo di pulizia è stato importante per permettere di essere in linea con le altre località a seguito di questo poi l'attività è stata condotta proprio sulle nostre tessere quindi siamo partiti dalla tessera baby la tessera junior e la tessera adulta o senior e il confronto con queste destinazioni queste località ci ha fatto capire che su alcune tipologie di tessere eravamo per certi in alcuni casi eccessivamente generosi nei confronti del beneficiario di questa tariffa come il senior in altri casi come lo junior Livigno e Chizbuel sono le due località che più di tutte offrono una proposta interessante in termini di scontistica a questa categoria che ribadisco cioè è dal 9 a 16 anni perché siamo gli unici che diamo uno sconto del 50% rispetto alla tariffa adulto però questa è una scelta quindi una scelta che è stata riconfermata i baby ad esempio cioè da 0-8 anni c'era un po' una contraddizione perché da 3 giorni fino in avanti era free quindi diciamo la tariffa di Livigno se l'adulto acquista la tessera assieme a un baby il baby non paga ma i primi due giorni invece veniva assimilato allo junior e quindi nella comparazione risultava che i primi due giorni eravamo i più cari di tutte le destinazioni dopodiché eravamo invece allineati con la politica del baby free per cui una delle innovazioni è stata quella proprio di portare il baby free dal primo giorno quindi dal prossimo anno da un giorno in avanti il baby free quindi fino a 8 anni sarà sarà gratuito sempre previ acquisto di un accompagnatore è stata riconfermata la tariffa junior col 50% di sconto e da questa analisi è uscito che alcune destinazioni soprattutto europee francesi e austriache hanno considerato anche una nuova fascia di età che è oltre lo junior e che arriva a seconda della località fino a 25 anni per cui da una serie di valutazioni che abbiamo condotto internamente è stata accolta la proposta di interpretare un po' meglio questa esigenza dell'utenza dai 17 ai 25 anni e abbiamo introdotto questa nuova fascia di età a cui presteremo attenzione e che avrà una tariffa dedicata più bassa rispetto a quella attuale che era quella adulta e quindi con uno sconto del 15% e questa nuova tariffa sarà appunto chiamata questa nuova fascia età youth cioè la categoria young giovani interesserà proprio un'utenza che a noi interessa molto per tanti motivi e quindi questa innovazione spero trovi poi riscontro nel mercato e credo che anche per gli operatori sarà un'opportunità anche di comunicazione importante chiediamo subito al nostro presidente che cosa pensa di queste due novità innanzitutto la gratuità per i bambini piccoli già dal primo giorno ovviamente bambini piccoli in vacanza con i genitori beh sicuramente è stata un'ottima idea ed era una problematica diciamo che ci veniva sollevata in passato poi è vero che la maggioranza dei nostri ospiti fanno la settimana bianca però è anche vero che questo è un modo anche di comunicare una direzione della località cioè prendendo questa direzione si fa capire che Livigno è una località che accoglie con grande piacere le famiglie forse siamo anche una delle schiarie più adatte ad offrire una vacanza in famiglia è chiaro che questa cosa debba essere comunicata come località nel senso che negli anni scorsi si identificavano delle settimane da dedicare alla famiglia se vi ricordate nei listini inserivamo sempre le family week ragionando anche con con Giorgio quindi con lo Schipas si è pensato di dire ma perché dobbiamo limitare il discorso famiglia a due settimane anzi facciamone un vanto e facciamo che Livigno comunichi questi vantaggi questi servizi che abbiamo anche proprio per la famiglia durante tutta la stagione chiaro che dovremmo allinearci un po' tutti quindi anche come operatori lo facciamo già però forse andare a assimilare le nostre fasce d'età per le scontistiche quello dello Schipas potrebbe essere un'idea per allineare tutto un'offerta e fare in modo che si diventi veramente vantaggiosi per la famiglia teniamo conto che i bambini sono sempre diciamo occupazioni aggiunte nelle nostre camere e quindi possiamo anche avere un occhio di riguardo e fare delle scontistiche mirate proprio per allinearci all'offerta dalla località Interessante questa comparazione con le altre stazioni tra l'altro le principali stazioni delle Alpi e dunque più importanti Credo che sia giusto andare a vedere quello che fanno gli altri e tante volte ci rendiamo conto anche che possiamo sistemare degli aspetti delle cose che si sono accorti loro per esempio anche noi non ci avevamo fatto nemmeno caso su queste discrepanze effettivamente andando a guardare gli altri si impara anche e quindi bisogna avere anche l'umiltà di andare a vedere prendere gli spunti che ci possono venire utili Molto interessante credo anche la tariffa di questa fascia d'età 17-25 anni soprattutto per gli italiani che insomma ragazzi si figlia dei tempi moderni cioè se pensiamo ai ragazzi di oggi non si sposano più a 18 anni e non vanno a farsi una vita in autonomia anzi quindi spesso e volentieri sono ancora carico della famiglia fino a quell'età lì o sono ancora studenti e quindi giusto la trovo un'ottima idea quella di proporre una tariffa che che aiuti anche un po' la famiglia con i ragazzi più grandi questo sicuramente sarà apprezzato dai nostri ospiti perché oggi dai 17 anni in su erano considerati adulti quando in realtà sono sicuramente ancora a carico della famiglia quindi quindi trovo più equilibrata questa cosa così come la tariffa sul senior non so se l'ha già detto Giorgio che verrà scontata meno però diciamo che forse il senior ha meno necessità di uno sconto così importante e quindi probabilmente andranno a compensare quello che verrà scontato ai ragazzi con la minor differenza sul senior certo e per quanto riguarda le stagionalità vi sono altre novità? No sulle stagionalità diciamo che sono state più o meno beh la partenza della stagione innanzitutto la partenza della stagione il 2 di dicembre come comunicato già precedentemente e la stagionalità il periodo promozionale va dal 2 dicembre al 15 dicembre il periodo promozionale e poi dal 13 di aprile al primo di maggio la seconda parte del periodo promozionale a differenza della scorsa stagione le settimane ski pass free che coincidono in parte col periodo promozionale il prossimo anno avranno una settimana in più quindi arriveranno fino al 22 di dicembre ma proprio anche come test perché abbiamo valutato che nella settimana che va a Natale il prossimo anno coincide con in realtà non proprio con l'entrata in Natale perché finisce il 22 quindi se come sollevato e richiesto dagli operatori l'utenza dello ski pass free ricerca anche questa settimana che non entra necessariamente a Natale ma che finisce a ridosso del Natale lo verificheremo il prossimo anno a seguito di questo tentativo di occupazione di questa settimana sempre difficile faremo le nostre valutazioni perché avendo tutti i dati a disposizione potremmo poi capire o magari si svilupperanno delle idee innovative su questo periodo quindi diciamo la novità rispetto alla precedente stagione che ci sarà questa introduzione sperimentale di questa settimana ski pass free poi ma il 22 di dicembre che giorno della settimana chiude sempre con il venerdì quindi diciamo il sabato riprende certo avete avuto la risposta che volevate sì però devo dire che io sono anche contento dai modi e dalle motivazioni nel senso che c'è sempre stata molta polemica sul tema ski pass free quasi in passato sembrava che ci fosse una guerra fra albergatori e impiantisti per capire gli albergatori volevano più settimane ski pass free e gli impiantisti meno bisogna capire che il prodotto ski pass free è uno strumento di località quindi deve essere utilizzato nei giusti modi e nei giusti tempi credo che sia giusto non svilire il prodotto di Livigno perché rischiamo anche di fare periodi promozionali troppo lunghi però bisogna capire quali sono i periodi che devono necessariamente essere promozionali perché altrimenti non riusciamo a fare occupazione quella settimana lì prima di Natale l'abbiamo visto anche quest'anno una settimana veramente critica per noi credo che l'idea di fare il test sia giusta perché quest'anno abbiamo le condizioni proprio per capire quanto può realmente incidere paragonato con quest'anno quanto può realmente incidere la promozione ski pass free alla fine della stagione riusciremo a dire bene giusto farla oppure no che cosa ne penseranno i suoi associati commercianti beh intanto avranno dei dati concreti su cui ragionare perché se non si fanno i test si può supporre dei risultati ma bisogna poi vedere se effettivamente vanno come previsto perché sì ski pass free funziona bene però bisogna vedere se quella settimana lì si riempirà al 100% o se supereremo di poco le presenze di quest'anno io credo che in quella settimana funzionerà però ecco vediamolo vediamolo coi fatti e poi dopo tiriamo le deduzioni Zini parliamo degli aumenti che avete applicato appunto ho anticipato che diciamo lo spazio per l'aumento era 15-5% a seguito di queste valutazioni vedendo un po' anche quanto alcuni riferimenti come il dolomite super ski ha proposto abbiamo considerato che l'8% è la diciamo la percentuale di aumento ponderato che applicheremo con dei distinguo perché mediamente sarà dall'8% però questa rimodulazione che è stata fatta su alcune tariffe vede alcune tariffe magari leggermente sopra alcune leggermente sotto quindi l'aumento sarà dell'8% può darci un indicativo per intenderci la tessera giornaliera passerà da nel periodo di alta stagione il giornaliero adulto sarà 63-50 lo junior sarà 31-80 senior e junior e youth questa nuova categoria sarà 54 e poi per passare queste tariffe più alte su 6 giorni saranno 318 l'adulto 159 lo junior 270 giovani e senior quindi sostanzialmente dopo abbiamo la modulazione sulla media stagione sulla stagione sulla promozionale certo che chiaramente diminuiranno in stagione il giornaliero costerà 54 e il 6 giorni 270 quindi sono l'8% in aumento rispetto a quelle attuali bene ma a fronte di questo aumento vi saranno anche delle novità sulla schiaria citava prima le località competitor che ogni anno lanciano piste impianti eccetera allora questo allo Schipas non è stato comunicato da parte degli impiantisti quindi il rapporto di novità di solito passa attraverso delle richieste al comune di nuovi impianti che poi dopo noi di conseguenza abbiamo l'informazione diciamo lo Schipas ha un altro ruolo ha quello di coordinamento di promozione e sicuramente se faranno delle nuovi investimenti in impianti o piste saremo i primi a comunicarlo sì bene bene prima parlava delle strategie di località e quindi dell'attenzione per esempio alle famiglie ma dunque il lavoro di posizionamento di Livigno prosegue vi sono novità ci sono novità nel senso che è stato scelto di prendere un po' più di tempo per la scelta di questa agenzia che dovrà aiutarci a costruire questo percorso in quanto è stata identificata un'altra agenzia da valutare da valutare appunto per l'eventuale poi assegnazione del lavoro quindi sì si è scelto di aspettare ancora un attimo per non fare una scelta un po' azzardata visto che il lavoro sarà molto importante perché l'idea è proprio quella di dare una direzione più chiara per tutti ma qual è l'idea degli albergatori la vostra idea qual è per esempio gli albergatori hanno diverse idee perché ognuno poi nella propria azienda oggi cerca di capire quali siano le tendenze e di proporre un prodotto non so per esempio ci sono degli alberghi che appunto si sono specializzati sulle famiglie ci sono altri invece che stanno prendendo la direzione di fare adult solely quindi uno potrebbe dire sono due prodotti contrastanti in realtà io credo che abbiamo lo spazio per dare un servizio completo e quindi specializzarci sia sulla famiglia ma anche riuscire a dare un tipo di vacanza più di qualità cosa che peraltro si continua a ripetere si continua a menzionare questa ricerca di aumento della qualità e quindi stanno nascendo anche delle realtà alberghiere dove hanno l'obiettivo di puntare a un target di clientela un po' più alto spendente credo che ci sia un concetto di massima di località che si debba dare una direzione di massima questo sicuramente poi dovremmo capire come declinare questo tipo di offerta all'interno delle nostre strutture perché comunque una località che fa i numeri come la nostra deve avere un'offerta anche completa se vuole se vuole competere realmente e quindi insomma vediamo anche cosa emergerà da questo lavoro perché comunque non è non è cosa semplice oggi di fatto siamo un po' così è vero che c'è la PT che ha identificato il lavoro degli ultimi 15 anni mi sembra di poter dire in una data direzione quindi verso la vacanza attiva verso questo voglia di benessere all'aria aperta legato al mondo dello sport e in effetti sono arrivati anche i risultati però l'idea è quella di andare ancora un po' più nel profondo e capire anche appunto quale target di clientela vogliamo puntare in modo tale da fare gli investimenti necessari per andare a colpire i target di riferimento bene di questo naturalmente parleremo prossimamente anche con i vertici di di APT che oggi non potevano essere con noi siamo alle conclusioni Zini qualcos'altro da aggiungere a quanto abbiamo già detto ma direi che quello che dovevamo dire in rapporto un po' al periodo e alla l'abbiamo detto adesso ci auguriamo che almeno mi auguro che queste innovazioni e questi cambiamenti che forse magari non sembrano così importanti ma secondo me sono dei momenti di crescita e anche un po' di riflessione per la località che spero appunto che vengano capiti e interpretati da tutti gli operatori in maniera positiva perché solo in questa maniera otterremo dei risultati importanti quindi ancora di più il tavolo della strategia a cui facciamo parte dovrà attivarsi per far proprie queste soluzioni che in questo caso l'associazione Schipas ha portato ma che non vuole tenerle solo proprie ma vuole veramente che diventino di tutti e che emerga appunto un alivigno che ha che segue una linea chiara e spero soddisfacente per tutti bene non abbiamo parlato dell'innovazione dell'associazione come vanno le vendite online allora abbastanza in linea con diciamo l'aspettativa che già l'anno scorso avanti è stato quindi siamo all'incirca sul 10% del venduto attraverso la vendita online prossimamente anche su questo tema ci sarà un confronto all'interno dell'associazione perché così come altri comprensori che hanno fatto questo passaggio importante di vendita riferito alla vendita online hanno in qualche modo trovato una sorta di vantaggio nell'acquisto online rispetto all'acquisto alla cassa questo ha portato un aumento fino a quasi al 30% delle vendite online cioè se riusciamo a fare questo passaggio anche noi potremmo in futuro aumentare la percentuale di vendita all'interno del canale online e quindi ottimizzare tutta una serie di processi però sarà un argomento futuro e se ci saranno novità in questo senso poi verranno comunicate bene chiudiamo qui il nostro incontro di oggi io ringrazio i miei ospiti Giorgio Zini Schipas grazie grazie a te Gloria e Marco Cola ATC grazie buonasera grazie anche ai nostri telespettatori arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.